Eccoci qua, nella sala operativa della Polizia Postale. Il caso di oggi riguarda Giordano, che stava cercando delle scarpe da basket e ha deciso di acquistarle su un sito che propone articoli sportivi di un famoso brand, ma a prezzi scontatissimi. E per procedere all'acquisto ha inserito sul sito il nome, l'indirizzo di consegna e i dati della carta di credito. Purtroppo però non si è accorto di essersi collegato a una falsa copia del sito ufficiale, di quel sito noto, e i dati personali che ha digitato nella piattaforma che ha inserito sono stati rubati illecitamente per acquistare altri prodotti. Giordano si è accorto della truffa, perché al posto delle tanto attese scarpe da basket ha ricevuto un pacco contenente una sciarpa di pessima fattura e addirittura contraffatta. Quindi Giordano ha utilizzato il servizio Segnala Online, che è presente sul sito del commissariato di PS Online, e ha chiesto quindi aiuto agli agenti della polizia postale, che lo hanno invitato a bloccare la carta utilizzata in quel caso per il pagamento e poi a formalizzare la denuncia. Ora sono in corso le attività investigative per identificare gli autori della truffa. Se riceviamo un pacco che contiene un prodotto differente da quello acquistato e non riusciamo a contattare il servizio clienti per verificare eventuali errori di spedizione, ti consigliamo di bloccare immediatamente la carta di credito.